Eccoci all'ora della cena ragazzi, qui abbiamo le pastelle a parmigiano, guarda dentro il ripieno che ora andiamo all'assaggio e qua abbiamo le ribs di carne che sarebbero costine di maiale, guarda che bellezza, ora andiamo a assaggiare perché deve essere molto tenera con i fagioli andiamo all'assaggio, si scioglie in bocca ragazzi, si scioglie che è una meraviglia, magari sofficissima proprio assaggiamo queste pastelle al parmigiano, col formaggio letto ragazzi, tanta tanta roba, ma queste gustine qua ragazzi ma sono veramente veramente buono, ribs si chiama, ribs, assaggiamo pure i fagioli Molto 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 buoni, l'ottima cena, se l'avete provato fatemelo sapere ragazzi, un abbraccio